Ciao ragazzi, le condizioni sono quelle che sono Io sto in pigiama, ma penso che ormai vi sarete abituati a vedermi in queste condizioni pietose Ma stando a casa ovviamente non è che mi sto lì a truccarmi e fare chissà che cosa E quindi oggi in queste bellissime condizioni vi parlerò del mio 2020, i libri secondo Goodreads Allora, io ogni anno su Goodreads, come penso la maggior parte di voi, faccio la Reading Challenge annuale E nel 2020 avevo messo, come posso dire, i libri che volevo leggere nel 2020 dovevano essere 100 Ovviamente non ci sono arrivata, anzi ho diminuito a 70 a un certo punto perché ho visto che le cose andavano abbastanza male Poi ho visto che le cose erano disastrose e ho diminuito a 50 e vabbè, che vi devo dire, non sono arrivata neanche a 50 Ma quest'anno è stato un anno particolare perché appunto ho fatto il trasloco, sono stata presa da altre cose E insomma è andata così Speriamo che il 2021 vada meglio Per ora sta andando abbastanza bene, vedremo Allora, mi sono scritta qui sull'agendina le cose che sono uscite dal mio 2020, i libri secondo Goodreads E questi sono i libri che vi farò vedere adesso Allora, innanzitutto i libri che ho letto sono stati 37 Un numero abbastanza misero per i miei standard Però diciamo che la maggior parte dei libri che ho letto mi sono piaciuti Quindi c'è stata qualche delusione ma non c'è stato chissà Insomma non sono state troppo le delusioni, però qualcuna c'è stata Le pagine che ho letto nel 2020 sono state 11.279 E iniziamo con il libro più corto che ho letto nel 2020 Che è stato di sole 102 pagine Ed è un libro che ho letto recentemente tra l'altro Se non sbaglio nel mese di novembre Quindi nel wrap up di novembre se volete saperne di più troverete qualcosa di più Sto parlando del testamento di Magdalene Blair di Alessar Crowley Se si dice così, questa è l'edizione dell'Aberitore che fa queste edizioni bellissime Allora, questo libro le ho dato tre stelline su cinque Perché innanzitutto forse mi aspettavo qualcosa di diverso Mi aspettavo qualcosa di più E insomma non mi ha entusiasmato Però l'ho trovato carino Ovviamente la storia è molto breve La cosa che mi ha incuriosito di più è stato l'autore Io non conoscevo questo autore Sono andata a informarmi su di lui Prima di iniziare la lettura di questo libricino E sicuramente la cosa che mi interessa di più Mi interesserebbe di più È quella insomma di andare alla ricerca di altri suoi libri Per vedere un po' se possono piacermi Se ovviamente lo stile rimane così filosofico come in questo libro Non fanno sicuramente al caso mio Però l'autore comunque mi intriga Poi il libro più lungo invece che ho letto nel 2020 È stato di 662 pagine E è un libro che ho letto abbastanza recentemente Se non sbaglio nel mese di ottobre È un libro che io desideravo tantissimo Infatti appena è uscito ho voluto acquistarlo E sto parlando di Midnight Sun di Stephanie Meyer Questo è della Pazzi Editore A questo ho dato, ve l'ho detto a Magdalene Blair che avevo dato 3 stelline su 5 A questo ho anche 3 stelline su 5 Perché io sono una fan sfegatata di Twilight Nonostante io abbia la bellezza di 33 anni Twilight mi piace tantissimo L'ho riletto anche se non sbaglio Non so se nel 2020 o nel 2019 Ma l'ho riletto appunto recentemente E gli ho ridato 5 stelline su 5 Perché per me vale 5 stelline su 5 Non mi interessa altro È bellissimo per quanto mi riguarda Da questo mi aspettavo qualcosa di simile E invece no Nel senso L'ho trovato carino Però non mi ha entusiasmato neanche questo E mi ha annoiato Perché secondo me è troppo lungo Secondo me l'autrice si è dilungata troppo Su cose che poteva tagliare Mentre si poteva dilungare su cose Che non sono state assolutamente menzionate Però appunto se volete saperne di più Andate a vedere il wrap up di ottobre Poi la lunghezza media dei libri nel 2020 È stata di 304 pagine Quindi va bene Una lunghezza sì abbastanza media Il libro più popolare che ho letto invece L'ho letto nel mese di marzo E' stata per me una rilettura veramente E si tratta di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen Io ho sempre adorato Orgoglio e pregiudizio È sicuramente uno dei miei classici preferiti E non appena sono uscite queste bellissime edizioni in edicola Non potevo non acquistarla E l'ho voluto anche rileggere Perché comunque era un bel po' che non lo leggevo E l'ho riletto e mi è piaciuto di nuovo tantissimo E gli ho ridato 5 stelline su 5 Tra l'altro ho visto proprio oggi a pranzo della pubblicità Mi sa che stanno riuscendo di nuovo queste edizioni in edicola A partire sempre dalla prima uscita Sempre Orgoglio e pregiudizio A 2,99 euro Quindi se non l'avete recuperata Cioè recuperatela perché Cioè questa edizione merita davvero tantissimo È veramente bellissima E poi se non avete mai letto Jane Austen Iniziare da Orgoglio e pregiudizio Secondo me è perfetto Io non ho letto tutti i suoi libri Ne ho letto qualcuno Mi sono piaciuti tutti Perché io amo Jane Austen E per Orgoglio e pregiudizio Forse insieme a Emma Tra l'altro Emma non piace quasi a nessuno Però a me è piaciuto tantissimo Però comunque forse Orgoglio e pregiudizio È quello che può piacere di più Io comunque voglio leggere tutti i libri di Jane Austen Ne spero di farlo quanto prima Ne ho messo anche uno Nella challenge dei 12 classici per 12 mesi Che ho organizzato insieme a Debbina Però ce l'ho a dicembre se non sbaglio Quindi insomma Ce ne vorrà un po' di tempo Per leggere un altro libro di Jane Austen Comunque tornando a noi Il libro invece meno popolare Che ho letto nel 2020 È stato il terzo libro di una trilogia Meno popolare su Goodreads ovviamente E sto parlando di Giallo Sporco Di Loredana Falcone e Laura Costantini Questo è il terzo libro della trilogia Noir a colori I libri sono Rosso Violento Verde Profondo E Giallo Sporco È una trilogia che a me è piaciuta abbastanza Molto Molto sì Il primo libro sicuramente è quello che mi è piaciuto di più in assoluto Le ho dato 5 stelline su 5 Cioè se non avete letto Rosso Violento Secondo me dovete leggerlo Ovviamente se vi piace il noir Bellissimo Il secondo e il terzo In questo caso il terzo Giallo Sporco Si sono presi 4 stelline su 5 Perché sì mi sono piaciuti Però secondo me non sono a livello del primo E questo anche l'ho letto a marzo Adesso visto che si tratta di un terzo volume Non credo di avervi detto chissà che cosa Nel wrap up di marzo di questo libro Però su Instagram sicuramente vi ho detto qualcosina in più Su Instagram vi ho parlato di tutti e tre i libri singolarmente Però ovviamente se non avete letto il primo Io non ve lo consiglio di andarvi a spoilerarvi il secondo e il terzo Cioè andatevi a leggere la recensione del primo libro Rosso Violento E niente quindi questo è stato il mio 2020 Il libro secondo Goodreads Ovviamente vi ho fatto vedere solo questa parte dei libri Non ve li faccio vedere tutti Io spero di fare il video sui libri più belli per me Per quanto mi riguarda del 2020 Spero di farlo presto perché lo so sono in ritardissimo Ma io sono una ritardataria cronica E non ci posso fare niente Non sono brava a organizzarmi Infatti lo vedete io pubblico quando mi va Quando mi va insomma pubblico un video E quando c'ho tempo soprattutto E niente Per questo 2021 ho rifatto ovviamente la sfida su Goodreads E ho messo 50 libri Non voglio esagerare perché so che le cose qua vanno ancora a rilento Però diciamo che sono partita abbastanza bene con le letture Spero che insomma continuino così Voi fatemi sapere quanti libri avete letto nel 2020 Se siete contenti o non siete contenti Se avete letto libri belli o libri brutti Io ho letto abbastanza libri belli comunque nel 2020 Le delusioni ci sono state Però sono state poche Vabbè che ho letto anche pochi libri Però vabbè diciamo che la maggior parte mi sono piaciuti E nient'ora vi saluto Basta E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao